Berlusconi ritiene che sia stata una sentenza ingiusta, i suoi collaboratori e amici di partito la pensano come lui, altri pensano che sia una sentenza sacrosanta, il punto vero è che in un qualsiasi paese, quando un leader politico viene condannato con sentenza passata e ingiudicato, la partita è finita, game over.